Una tentazione, se ne hai parlato ieri, non è ancora detto cosa si farà oggi. Adesso l'indicazione è scheda bianca, l'idea non è questa di fare nessuna provocazione. C'è un tema politico, oggettivo, di riconoscimento di uno schieramento. Per tanti anni si è tranquillamente votato un presidente con assolutamente origini dichiarate di centro-sinistra, che hanno fatto i grandi presidenti italiani, non si capisce perché il centro-destra non possa esprimere un presidente altrettanto all'altezza. Questo è un tema di riconoscimento politico che resterà per il futuro. Per cui se uno ritiene che questi grandi elettori di centro-destra non abbiano il diritto di poter esprimere un'idea, è sbagliato. È sbagliato perché noi potremmo portare a casa, da questa esperienza anche complicata, se vuoi confusa, tutto quello che vuoi, almeno un riconoscimento di rispetto tra le due parti che ci sono oggi in Parlamento, destra e sinistra. In qualche modo ci sono un sacco di persone al lavoro perché questi tipi di attività non diventano dirompenti, non diventano devastanti, per cui credo che... Cioè dei pompieri al lavoro, dice lei. No, le persone, secondo me, di buona volontà, che senza chiedere niente a nessuno, io non sono neanche grande elettore, noi abbiamo fatto un gruppo, un partito, perché noi siamo anche un gruppo politico, abbiamo inventato io e Marco Maria a casa mia, e abbiamo messo insieme gente che usciva da Forza Italia, che non capivano che non c'era più agibilità in prospettiva, perché abbiamo voluto costruire un'alternativa prima che possa succedere altro, per rappresentare un mondo liberale di centro. Abbiamo fatto con tanti amici che vengono dai 5 Stelle, abbiamo fatto con mondi come me che vengono dal mondo civico, con sindaci, amministratori. L'idea è quella di essere una specie di momento di ammortamento rispetto a questi contrasti che inevitabilmente ci sarebbero. Per cui se anche oggi si andasse alla conta, non ci sarebbe nessuna provocazione. L'idea poi, se fosse, sarebbe su Carlo Nordio, che è un magistrato, persona assolutamente, no per bene, di più, che ha dato tanto a questo Stato, ha fatto storia del Paese, anche sul profilo giuridico, per cui è semplicemente per dire, guarda, che ci siamo. Essendo una votazione comunque neutrale in questo momento, se fosse non sarebbe da vedere nessun senso, se non questo, anche per dimostrare che questa forza c'è, se qualcuno mi lanta che sia divisa, non è vero. Non è vero. E anzi, chi gioca alla divisione vale nel centro-destra, ma vale anche per il centro-sinistra o per i 5 Stelle. Secondo me non trovo il mio appoggio, perché dividere è molto facile, unire e costruire è più difficile. Distruggere, se ci pensate, ci si mette un attimo, a costruire ci vuole un sacco di tempo. Io credo che questa cosa qua sarebbe bene che ce la ricordassimo sempre. Poi parliamo anche di quello che sarà. Ma se questo è lo spirito che vince, il Presidente rappresenterà uno spirito. Se vince invece una cosa di conflitto, ecco, diventerà comunque un qualcosa che diventerà più difficile da recuperare, in un momento difficile. Però mi dice anche un'ultima cosa.